Ora siamo qui al salone di Francoforte che per Seat è un salone molto importante perché abbiamo la nostra quarta novità dell'ultimo anno che è l'introduzione del nuovo SUV, il fratellino della Teca che si chiama Arona questa macchina entra nel segmento B che è un segmento che sta crescendo in un modo molto importante in tutta Europa ma in particolare anche in Italia allora abbiamo ascoltato i nostri clienti le esigenze sia dal punto di vista del styling il potenziale di personalizzazione, la tecnologia, la motorizzazione che comprenderà motori di benzina, motori di diesel ma anche importantissimo per l'Italia, motore di metano che sono motori che sono molto performanti nel senso di essere verdi hanno valori di CO2 molto bassi, il NOx quasi inesistente allora porta un consumo, un'autonomia di 1200 km se combiniamo il metano con la benzina allora una macchina che si può usare da subito all'interno c'è tutta la nuova tecnologia che abbiamo conosciuto con l'introduzione della Leon della nuova Ibiza e della Teca e l'abbiamo portato nel segmento più basso allora qui sono tecnologie come il touch screen di 8 pollici tutto il full link, il controllo della distanza con il cruise control l'entrata e l'accensione senza chiave tutti sistemi che di solito si trovano nei segmenti più alti e SEAT li fa offrire anche i clienti di questo segmento allora siamo molto orgogliosi di questa addizione e che è la seconda nel sviluppo dei modelli SUV abbiamo già annunciato che ci sarà un terzo SUV ma questo sarà l'anno prossimo che è più grande poi l'altra cosa interessante che abbiamo sul nostro stand è l'introduzione della SEAT più potente che abbiamo mai avuto la nuova Cupra R che arriverà con 310 cavalli in versione manuale e 300 nella versione DSG è una limited edition che porta delle colorazioni del sviluppo della carrozzeria che sono molto più grintose ma sempre con una grande eleganza abbiamo cambiato anche l'assetto alla parte interiore che fa la macchina la più veloce che troviamo mai sulle strade e che girerà le piste con una velocità senza precedenza per SEAT poi altre novità abbiamo dichiarato che da quest'anno già nelle Leon e nella Teca si potrà allestire le nostre macchine con l'Amazon Alexa un comando vocale di intelligenza artificiale per comandare o chiedere a Alexa istruzioni di viaggio, di punti di interesse, di punti da mangiare allora questa qui è la partenza per noi siamo i primi in Europa di offrire questa combinazione e questo lo porteremo anche l'anno prossimo su la nuova Ibiza e sulla Rona allora continuiamo a essere all'avanti con tutte le tecnologie di connessione in particolare e questo lo facciamo proprio per i nostri clienti che sono proprio allineati a queste esigenze